Torniamo ora a parlare delle iniziative organizzate dalla Regione Lombardia in occasione del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi. L'intervista all'assessore alle culture della Regione Cristina Capellini. Assessore Capellini, questa settimana, una settimana particolare per la cultura, non solo Lombarda ma in generale, perché il 10 di ottobre ci sarà la Maratona Verdiana per il bicentenario di Verdi. Sì, un'occasione molto importante. Abbiamo voluto come Regione Lombardia partecipare, anzi come protagonisti, renderci organizzare un evento dedicato ai cittadini. Infatti abbiamo organizzato questa Maratona proprio a Palazzo Lombardia, aprendo il palazzo, aprendo il 39esimo piano, il Belvedere, con innanzitutto tre concerti nell'auditorium testori nella piazza di Città di Lombardia. Un concerto, il primo sarà alle 17, il secondo alle 19 e il terzo alle 21, in collaborazione con i pomeriggi musicali e la scuola civica di musica del Comune di Milano. Il Belvedere resterà aperto dalle 19 alle 23, quindi sarà anche l'occasione per i cittadini di visitare, di arrivare, di vedere Milano in una versione, diciamo, inedita. e la filodiffusione del Belvedere e della piazza sottostante trasmetteranno per tutta la giornata a Rie e Cori Verdiani, quindi un omaggio tutto tondo. Infatti abbiamo denominato l'evento La Regione si tinge di Verdi proprio per fare una giornata dedicata interamente al maestro, ma che sia un evento di popolo, un evento dedicato proprio ai cittadini. Grazie.